Ciao a tutti, sono Borbixanax e benvenuti in un nuovo video Questo video sarà una video reaction per quanto riguarda il trailer di After 2 Che ancora non avevo visto perché volevo fare la video reaction con voi Se le sono successe tantissime cose Se sentite dei rumori, ho la finestra aperta C'è sia la lavatrice mia, sia quella del vicino che sta a fa un bordello Quindi scusate, ma fa caldissimo, fa caldissimo Quindi, benvenuti qui in questo video Prima di iniziare un pochino di annunci Prima, se mi vado a supportarmi, potete farlo con like, con commento, scrivendo qualcosa qui sotto Seguendomi su Instagram, oppure comprendo qualcosa dal mio shop Oppure ancora seguendomi sul sito delle dirette Oppure ancora utilizzando il mio codice sconto su Pampling La miglietta di oggi è tema E-Man con Skeltor È direttamente da Pampling, io l'ho tagliuzzata un po' per farla un po' più così Insomma, perché fa caldo, inseramente E ho preso la mestura Unisex e poi l'ho tagliuzzata Potete utilizzare il codice sconto Sghicio, perché Sghicio tornerà di moda Che vi farà ottenere il 20% di sconto su tutto quello che c'è sul sito Inoltre ora ci sono anche i cover mascherina Tutte le informazioni le trovate nell'info box Ma prima di iniziare, prima di iniziare a vedere questo trailer di after Che succede? Probabilmente qui sotto troverete il casino Di gente che riversa oggi parlando contro l'odio Che volete fa'? Io ci ho provato questi in almento Più sono ossessionati, quindi che volemmo fare? Aiutatemi voi, insomma, di darsene a regolata Ok, ma iniziamo subito Perché noi neanche se potevamo far fermata a sta gente Da sti cirucchiati Cioè avete un pochetto roteschiatole Datevi una regolata, fatevi una vita Annatevi fuori, fatevi una passeggiatina Annatevi a comprare gelata, una certa Via, eh Signori miei, signori miei Fa' un caldo che non vi dico Fa' troppo caldo, sinceramente E non lo so, poi che sta fatta? Dandangilo? Raccontatemi un pochetto Nel momento io cerco il trailer di Twilight E se del Twilight Non lo volevamo vedere in italiano, sinceramente Poi lo vediamo pure in italiano Vi sentimo che pure c'è, dai Qual è il trailer originale? Io posso dirvi una cosa però Che ho visto praticamente il poster di After 2 C'era lui che c'era tipo un tatuaggio gigante con la bilancia qua E poi arriva il logo di forum Quindi ovviamente Immaginate tipo un film su un fan di forum Non lo so, farebbe troppo lì Oppure immaginate se qualcuno veramente si fa dei tatuaggi a tema forum Tipo la gigantografia dei Santi Lichieri Oppure Pasquale O il tizio con i capelli rossi Come si chiama? Bracconieri Quello che poi su Twitter si è dato la pazza gioia Oppure ancora Vi immaginate tipo una gigantografia sul petto Che è rita dalla chiesa Con i cagnolini di peluche che c'era sulla scrivania Sarebbe una roba bellissima Allora cerchiamo After 2 trailer E voilà E c'è solo in italiano Boh ma ci sono tutte le tourate differenti Che sono? Ah perché in inglese si chiama After Week Online Santo cielo Vabbè Andiamo Andiamo su After Week Online Già sembra una palla sinceramente Semplicemente il coso Quindi clicchiamo e andiamo Ammata La pubblicità dei patatine Questa è già una cosa che mi piace sinceramente Ok abbassiamo l'audio Se no YouTube Cioè l'intero mondo un po' Si apre con le cose del lago e dice L'intero mondo è una collezione di memoranda Cioè memoranda in inglese Credo sia anche una parola poco usata Una mia impressione Vabbè del fatto che lei esiste Ma va? Cioè nel senso Credi che quando te lascio con qualcuno Quello scompare dall'universo Che cavolo è? Scusate Black Mirror Che blocchia la gente? Ah ma quindi questa seconda volta È lui che parla dalla sua visione Dipendenti dal passione E dolore Ma che è segreta Ma datevi una regolata Su scusate Illuminiamo un pochino sto schermo Che non si vede niente Ma lui col tatuaggio Della Q di cuori E la K del re dei cuori Cioè ma pure meno Pure meno Perché mettono sempre Il giacchetto di pelle ai tizi? Ma lui la tradisce Quindi questa tizia Con l'extension di plastica Ma chi è sta bionda mo? Ah e te Ma è una riconosciuta? Ma lavora Scusa Ma non è tipo Ma è un'altra attrice Scusate Ma per me non è la stessa attrice Quella è un'altra attrice Che fa testa O è una mia impressione Scusate Poi c'è pure scelta Che sei stata la pazza gioia A me mi pare Un'altra attrice Scusate O è una mia impressione Ma poi perché vestita Tipo da Ferrara Con questo vestito Tutto dorato Ma poi Cioè teoricamente Questi non vanno a scuola Non so adolescenti E mo la Ah no forse andavano all'università Boh Mo lavorano Boh Vabbè Ah ma c'è quello tipo Ma che scena tristissima E quello col piede Apri la porta E c'è quello che è mutando in mano Così Ma che scena patetica Che poi questo qua Che è? Non è quello di Riverdale Il gemello De che Zack e Cody Are Grand Hotel È Zack o Cody Oh non mi ricordo Sinceramente Vabbè Gli hanno messo Tipo degli occhialetti Per farlo sembrare L'imprenditore Tipo Tu devi metti gli occhiali Tac Imprenditore E invece L'artisoporacci E poi dietro De lui Ci stanno Tipo Di vecchi Non lo so Se li vedete Ma vedete Ci stanno Di vecchi Tipo 70 anni Do stanno Scusa Ma che posti Frequentano Quindi c'è C'è un assento 18 anni Stanno gli 70 anni Boh Il tipo di ragazzaccio Cattivo Ma che frasi sono Ma si picchiano Vabbè L'immancabile cosa Cosa si dà L'alcol Scene piccantine Non sono più La tua testa Ma che forti Ma gente Che lancia Cosa a caso Hero Fines Comunque C'ha C'ha Proprio La faccia Da pesce lesso Tipo Cioè Non sa ricita Non fa un'espressione Manco morto Vabbè Scene piccantine A caso Scene piccantine Anche lui Che si è fatto I portatuaggio Loro che semenano Gente che si è bacia Lei che sta Fando incidente Che ovviamente Si affinirà sempre Con tutto Che è lei Che sta bene Che noi siamo Preoccupati Per niente Non c'è nessun altro Per mettere Ma nel mezzo Se fa quella Che è extension De plastica Abbiamo capito Ma vediamo In italiano Vediamo in italiano Che dicono I dialoghi Perché io Mi fa un po' Distratta Allora sentiamo Ma per favore Il mondo intero Non fa altro Che ricordo Che lei Esistita davvero Questa è la nostra Mettiamo i sottotitoli Siamo come una droga Reciproca Ma santo cielo Non è certo Ragazzo E invece Ha voglia E se Facilino Capitolo Fenomenale Ho letto bene Cioè Ma quale Universo Wow Cioè Proprio scene patetiche Cattivo ragazzo Hanno tradotto Con belli e dannati Cioè Ma quindi Questi Se sono lasciati E rompono ancora Le scatole Perché uno Si parla Qualcun altro Io non ho ben capito Io non sono più La tua testa Fa troppo ride In italiano Comunque Cancellare il passaggetto Che lancia oggetti Così Come se fossero loro Come se nemmeno Si rompessero Comunque Secondo me È più carino Sto Dylan Rispetto a sto Hardin Cioè È proprio bruttarello Sto Hardin Perché adesso C'è sta fascia Da Da triglia Mamma mia Questa storia Da rette Hardin Non finirà Di qualsiasi Cosa Se hanno fatte le anime La mia e la sua Sono uguali Ma cosa Ma cosa Ma per favore E non esiste Nessun altro Ma scusate Ma questi Nella doccia C'hanno una bottiglia Di vino Nella doccia Nella doccia Cioè Scusate Guardate Il finale Il finale Gli ultimi secondi Il 2 settembre Esce Scusate Dobbiamo Ecco Ecco Cioè Scusate Ma non è una bottiglia Di vino Questa A me Mi pare Si Nella doccia O De mirto Cioè Sembra una bottiglia Di mirto Nella doccia Cioè Ma chi è che C'ha la bottiglia Di mirto Nella doccia Ma che problemi C'ha in Pavi C'ha la bottiglia Di mirto Nella doccia Cioè A me Sta cosa Non mi convince Ma vabbè Diciamo che I dialoghi Sanno abbastanza Imbarazzanti Pensa pure A ci Gli attori Che devono Ricitarli Che devono Ricorre Di manessere Mamma mia Guardate In In video Per niente Comunque Signori miei Questo trailer È abbastanza brutto Non è al pari Del primo Il primo faceva ride Almeno C'era carta A banco Ma lui che passava Tipo la carta Tra il sedere Ma questo è proprio Driss Cioè Già si sa Come va a finire Un po' Tipo di Kissing Booth 2 Cioè Saranno Tipo Un altro Due o tre Episodi Se non sbaglio Sicuramente Va a finire Che loro Ritornano insieme Cioè Ma che vuoi Vuoi Dì Ci sarà Una farfallonata Da qualche parte Dove lui Tipo La tradisce Ma vede sto biondino E ci perde un po' La capoccia Però alla fine Ritorna a casetta Ritorna all'ovile Dal nostro bad boy Cioè Alla fine Sti programmi Sti cosi Sanno tutti uguali Tutti identici Quindi che vuoto Dio Boh Non lo so A me pare un po' Una noia Voi che dite Boh A me pare una cosa Abbastanza noiosa Boh Che poi Sotto che c'è scritto Mentre Arden Torna a perdersi In cattiva abitudine Tessa Forte Dalla sicurezza acquisita Inizia a frequentare Lo stagio Dei suoi sogni Alla casa editrice Avance Dove attira L'attenzione Del suo collega Trevor Il ragazzo Perfetto Col quale Intraprendere Una relazione Ma perché perfetto Semplicemente Perché ha incontrato Il ricco Boh Non lo so Vabbè Trevor è intelligente Spiritoso Attraente Ma soprattutto È affidabile Ma a Tessa Gli piace Rischiassere Con sto Arden Che va in giro Insieme in agente Abbiamo capito Tessa Nonostante questo nuovo incontro Non riesce a togliersi Dalla testa Arden Dopotutto Lui è l'amore Della sua vita Ma è il primo Che ha incontrato Ma cosa l'amore Della sua vita All'unità Delle loro Fraintendimenti E delle difficoltà Non può negare Ciò che prova Vorrebbe essere In grado Di andare avanti Per la sua Per la sua strada Ma non è così Semplice Attraverso gli alti E i bassi Della loro relazione Tessa Arden Lotteranno Per stare ancora insieme Anche se L'intero universo Sembra Tramare Per tenere Lì separati Cioè L'intero universo Ma Cioè Andatemi la regolata Ma chi vi crede Ma chi vi si fa A favore Su Ma questo era tutto Ragazzi miei Voi avete visto Questo trailer Sinceramente Sti film trash Nemmeno vi emozionano Più di tanto Tanto già sappiamo Come vanno a finire Litigarello Cioè Il primo episodio Magari c'è già Il più emozionante Ma il secondo È proprio Un riempitivo Ecco Questo era tutto Buone vacanze Ragazzi miei Fate i bravi Divertitevi Fatemi sapere Come state E noi ci vediamo Al prossimo video Grazie mille a tutti Per supportarmi A quelli che sono venuti qua A rompere il scato Cioè uscite Magnate in gelato Fatevi una passeggiata Ciao Ciao